Allora, cosa facciamo questa puntata è sempre il tocchio tritto di febbraio marzo, quattro cose. Questa puntata lo dico perché questa puntata magari arriverà a giugno. Sì, è vero, sì. Siamo ancora al 7 di aprile. Sì, esatto. Tutto tema fragoloso quest'ultima puntata perché ha il tocchio tritto. Trano una cosa che però in realtà abbiamo già assaggiato. Esatto, sono i pezzi di colo di Daniele Locicero, i ripieni di sbubba. No, sono schifo che facciamo. Perché voi dovete sapere che facciamo una puntata dietro l'altra. I nostri stomaci ormai non ce la fanno. E sono sfogliattine di biscotto con ripieno di vaniglia. Molto buone. Molto buone, ve li consigliamo. Sì, sì, sì. E quindi quanto copertina? No, aspetta. Aspetta, no. Eh ma c'era bene. Ok, assaggiamo questo che non è altro che zucchero filato alla fragola. Alla fragola. Nooo. Poi assaggiamo pezzetti di scroto emorroidale, non so. Alla fragola. Cosa sia, non si sa, ma sono molto piccoli. Sono vestigli dei citati. I tuoi. E poi abbiamo, come sempre, in tutte le versioni ormai. Esatto. I micado, pochi. Ah, la fragola. L'altra volta c'era una forma di cuore, ora sono con i locchetti, ma sempre la stessa. Sì, assolutamente sì. Vai. Con lo zucchero. Che buono, lo zucchero filato. Io lo annovo. Fa schifo, che faccia? Chemicissimo da morire. No, però scusate. Mamma mia, ma che so... ma sembra un cotone. Che bello. Aspetta. Secondo me è cotone. no, no, non aprirlo tutto. Si rovina. Allora. Che so, invece voglio giocarci. Andiamo? È sparito. Ciao ragazzi. Io metto in bocca tutto questo. Vabbè, ma non è l'unica cosa ti metti in bocca e sparisce, Dania. Sparito. Non c'è più niente. È zucchero schietto, questo. Però è buono. Molto buono, sì. Però dopo un po' mi chia. No, già sì. Mamma mia. Buono. Mi metti perché l'hai aperto molto bene, non mi si segnerà neanche. Come di solito. Lo ci ho provato il voto 5. Lo fa provato il voto 5. Allora. Ma, taca oca. Taca oca. Taca oca. Taca oca. Taca oca. Taca oca. I can't stop this feeling. Di pensare a me. Vabbè. Tornandoci ma coranzone, quindi non sai come cominciano. Resta la giornata delle tue bimbe minchia. No, per nulla. E di chi è? Non mi ricordo. Ma non vorrò la sentire. No, per nulla però. Non è una bimbo minchia. Ah no. Poi è vecchia. Come c'è azione? Ah. Vai. Pallino. Vai. Ma dentro i waffer. Sì, è tipo waffer. All'interno ha... Pensavo fossero caramelle. No. Ma di prima non stanno un cato. Stanno il caramello. Ma è pop corn questo, eh. Può essere. Guarda. Delicious snack of candy are something like a dreamer. Enjoy perfect and crispy with a biscotto. Sì, biscotto. Biscotto. Ci piace. No, fa prove e voto 4 perché non stanno di fragola. No, c'è prove e voto 4 perché sono troppo, troppo, troppo piccole. E vabbè, Dani, te li metti in bocca a 16. Come fai con altre cose? Ma finiscono subito. Cioè, subito. Ora proviamo questi di Hello Kitty. Cosa saranno mai? Come saranno mai? Chissà. Sono scioccata io. Sì, sì, sì. È proprio... Però sono un'altra marca, quindi magari, ho fatto schifo, sono della KABAYA. Non ci riesco. Molto bene. Ma un'altra volta, provatelo, provatelo. Non ci riesco. Challenge spazzetta, non cazzo di... Non ci riesco. Non ci riesco. Non ci riesco. Ma porca troia. Oh. Ciao, spazio. No, non ho il sesamo. Mi fa schifo. Ma non hai il sesamo? Dani, sono solo incisi. Ti metto il sesamo con la fragola. C'è. Non mi faceva questo. Vabbè, vedete. Andiamo? Vai. Soliti. Non so se buono gli altri, però. Questi sono quelli alla soia. Ricoperti di cosa o alla fragola? No. Buono, però. Preferisco 100.000 volte quelli della Pochi dell'altra puntata a cuorezzino. Quelli sono veramente pro. Questi. L'ho fa mezzo e mezzo a Provet, voto 4. Allora, c'è... Cioè, no, scusa, 3 e mezzo. No, l'ho c'è Provet, voto 5. Mi piacciono. Sì, no, non sono cattivi, però c'è... Pro Torca. Mettete altri gusti. Mettete il gusto... C'è il gusto che non so... Non è che il gusto pesca, no. Mettete il gusto che ne so, capocchia di anziano. Mettete... Di un altro gusto che potrebbero mettere, suggerisci? Non lo so, squirto secco di vecchia, cioè... Ecco, emorroidi a grappolo di... Non so, di anziana trans, insomma, qualcosa che è proprio... Sì, infatti, è vero. Va bene, questo è tutto. E basta. Tocchio Treat è finita, ci vediamo con la prossima Tocchio Treat. Esattamente, che a questo punto farà due mesi, ti prenderà. E basta, invece ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.